L'aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione stanno preoccupando non poco chi deve contrarre un mutuo. Farlo a tasso fisso, a tasso variabile è un bel dilemma. Si sta facendo comunque strada anche un nuovo sistema, quello con il CAP, che prevede inizialmente un tasso fisso per poi andare ad una quota massima dilata. Potrebbe essere una buona idea.